Prima di iniziare col video, un piccolo annuncio. Ci sarà il video del dietro alle quinte della partita, dell'incontro di campionato, una lunga trasferta, più o meno intorno alle 9-10 ore di macchina in totale tra soste e quant'altro, quindi insomma un viaggio molto lungo. Vi ricordo peraltro che qualora foste interessati a servizi di video editing, come vedete in questi video, per le vostre partite, campionati, tornei, eccetera, eccetera, non esitate a contattarmi. E nulla, non ho altro da aggiungere, io vi lascio al video e buona visione. Bravo! 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 bravo 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 Eeeh! Ciao! Ciao! Olli! 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 bravo 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 Brava! Già! Calè! Brava! 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 Grazie 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 Bravo 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 Grazie 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 Grazie. 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 No! 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 Che pieta! No! 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 Grazie a tutti! Eccoci tornati, allora ha finito l'incontro di campionato. 5 a 2, come potete vedere. Diciamo non solo 심plutare... Due partite vinte e tiratissime il toset! Io personalmente, la partita che ho fatto non è... mi sento di aver giocato anche bene. Io vi ringrazio della visione, vi ricordo di iscrivervi, lasciare mi piace, di attivare la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati sui prossimi video. Come ho detto all'inizio video, successivamente il prossimo video sarà sul dietro alle quinte del viaggio. Vi lascio qui vedere già solo il fatto che siamo partiti con un pulmino, che è una cosa che io personalmente non avevo mai fatto. E nulla, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti! Ciao a tutti!